Ciao a tutti, oggi sono davvero emozionata nel condividere con voi questa splendida notizia perché l'associazione italiana Persone Altamente Sensibili di cui faccio parte ha scelto il mio webinar sullo sport e sulle aziende per inaugurare il ciclo di eventi informativi su questo tratto e che esiterà mercoledì 14 giugno alle ore 20 su piattaforma Zoom in modalità gratuita l'importante è iscriversi a infochiocciola personaaltamentesensibili.it l'alta sensibilità perché ancora non la conosce è un tratto della personalità che non ha genere perché riguarda tanto gli uomini quanto le donne ed è stato scoperto dalla psicoterapeuta americana dottoressa Elaine Aron e io ho avuto la fortuna di formarmi come operatrice altamente sensibile con la dottoressa Elena Lupo che oltre a essere presidente dell'associazione è anche la diretta referente dell'Aaron per l'Italia io mi chiamo Aurora Puccio, faccio la sport mental coach, la speaker ispirazionale nelle aziende ma soprattutto sono fiera di essere una persona altamente sensibile condividerò con voi la mia tesi, la prima sperimentale in Italia sullo sport declinato anche in ambito aziendale e con me ci saranno due testimoni ad eccezione incluse nella tesi Maddalena Musumeci, campionessa olimpica ai giochi olimpici di Atene 2004 con il leggendario Sette Rosa e oggi general manager della Virgin Activity di Catania e Maristella Perizzolo, manager della nazionale italiana Under 15 di softball femminile in procinto di partire per i mondiali del Giappone staremo insieme per circa un'oretta, un'oretta e mezza durante la quale vi condivideremo le nostre esperienze ma soprattutto cercheremo di abbattere gli stereotipi sulla sensibilità perché spesso ci sentiamo dire che siamo troppo sensibili come se la sensibilità fosse un limite ma non lo è, non è un limite è un valore aggiunto, è altamente performativo quindi vi aspettiamo il 14 giugno Ciao!